Affida il tuo evento ad un grande professionista affermato, Alessio Ferrigno The Voice. Spettacoli, intrattenimento, piano bar, live music, animazione, karaoke, DJ set e tutto quanto fa entertainment. Alessio Ferrigno The Voice vi coinvolge con eventi privati e pubblici, feste di laurea, compleanni, matrimoni, battesimi ed inaugurazione location. Il gruppo Alessio Ferrigno The Voice si avvale di un impianto audio-video-luci di alta qualità e di un professionista. Per il servizio fotografico, guarda i nostri lavori sulle pagine social Facebook ed Instagram Alessio Ferrigno The Voice. Contatti 389 28 44 971. 389 28 44 971. Alessio Ferrigno The Voice. Sensazioni ed emozioni glam che coinvolgono al di fuori della rutina. Affida il tuo evento ad un grande professionista affermato, Alessio Ferrigno The Voice. Spettacoli, intrattenimento, piano bar, live music, animazione, karaoke, DJ set e tutto quanto fa entertainment. Alessio Ferrigno The Voice vi coinvolge con eventi privati e pubblici, feste di laurea, compleanni, matrimoni, battesimi ed inaugurazione. Il gruppo Alessio Ferrigno The Voice si avvale di un impianto audio-video-luci di alta qualità e di un professionista. Per il servizio fotografico, guarda i nostri lavori sulle pagine social Facebook ed Instagram Alessio Ferrigno The Voice. Contatti 389 28 44 971. 389 28 44 971. Alessio Ferrigno The Voice. Alessio Ferrigno The Voice. Sensazioni ed emozioni glam, che coinvolgono al di fuori della rutina. Affida il tuo evento ad un grande professionista affermato, Alessio Ferrigno The Voice. Spettacoli, intrattenimento, piano bar, live music, animazione, karaoke, DJ set e tutto quanto fa entertainment. Alessio Ferrigno The Voice vi coinvolge con eventi privati e pubblici, feste di laurea, compleanni, matrimoni, battesimi ed inaugurazione location. Il gruppo Alessio Ferrigno The Voice si avvale di un impianto audio-video-luci di alta qualità e di un professionista. Per il servizio fotografico, guarda i nostri lavori sulle pagine social Facebook ed Instagram Alessio Ferrigno The Voice. Contatti 389 28 44 971 389 28 44 971 Alessio Ferrigno The Voice. Sensazioni ed emozioni glam, che coinvolgono al di fuori della rutina. Affida il tuo evento ad un grande professionista affermato, Alessio Ferrigno The Voice. Spettacoli, intrattenimento, piano bar, live music, animazione, karaoke, DJ set e tutto quanto fa entertainment. Alessio Ferrigno The Voice vi coinvolge con eventi privati e pubblici, feste di laurea, compleanni, matrimoni, battesimi ed inaugurazione location. Il gruppo Alessio Ferrigno The Voice si avvale di un impianto audio-video-luci di alta qualità e di un professionista. Per il servizio fotografico, guarda i nostri lavori sulle pagine social Facebook ed Instagram Alessio Ferrigno The Voice. Contatti 389 28 44 971 389 28 44 971 Alessio Ferrigno The Voice Alessio Ferrigno The Voice. Sensazioni ed emozioni glam, che coinvolgono al di fuori della rutina.